Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e con la concessionaria De Giorgi. Accanto a me Luca, il responsabile vendite appunto della De Giorgi. Ciao Luca. Ciao Rosi, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo qui alla concessionaria Danilo De Giorgi, concessionaria marchi Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, finalmente anche Jeep perché ci mancava. Raggiungersi è molto semplice, due parole, per chi percorre l'autostrada Milano-Genova l'uscita sarà quella di Casai Gerola, per chi invece percorre l'autostrada Torino-Piacenza l'uscita sarà quella di Voghera. In entrambi i casi al di fuori dell'autostrada sarà sufficiente seguire le indicazioni per Piacenza, c'è la tangenziale di Voghera all'uscita Voghera-Est, vi trovate di fronte a una rotonda, la percorrete a sinistra e ancora un chilometro vi separa qui dalla nostra esposizione. Esposizione Luca, dalla quale stanno vedendo qualche immagine che vi aspetta con tantissime proposte. Vetture aziendali, vetture a chilometri zero, vetture nuove, davvero trovate il mondo per quanto riguarda le automobili, per cui il consiglio è quello di venire qui oppure di visitare il sito e se vi sfugge qualcosa durante questa trasmissione, sito www.autodelgiorno.tv per avere l'opportunità di rivedere da capo interamente la trasmissione. Ah bene, questa è una novità. Quindi niente, passiamo direttamente a presentare tutto quello che abbiamo selezionato per questa serata, vedrete che ci sono numerevoli proposte. Andiamo! Lancia Y 1.2 Gold, vettura già Euro 6, marzo 2015, disponibile in vari colori, a partire da 9.200 euro. 500 1.2 allestimento Lounge, anche a 6 Euro 6, vettura del 2015, in vari colori, a 9.450 euro. Lancia Y 1.2 Silver, vettura a chilometri zero del marzo 2016, disponibili a partire da 8.900 euro. 500 1.2 Cabrio, allestimento Lounge, vetture semestrali, disponibili in vari colori, a partire da 12.500 euro. Panda 1.3 Multijet, vettura aziendale, 75 cavalli, con start and stop, metallizzato quinto posto e ruota di scorta, a partire da 12.400. Abbiamo uno stock di Panda 1.2 Lounge, vettura a benzina Euro 6, vettura dell'anno 2015, con pochi chilometri, con quinto posto e ruota di scorta, a partire da 8.000 euro. C4 Cactus, 1.6 turbodiesel 100 cavalli, allestimento Phil, vettura dell'anno 2015, con pochi chilometri e navigatore. La spesa è 15.100, è disponibile anche con cambio automatico. 500 1.2, 69 cavalli Euro 6, allestimento Pop, vettura a chilometri zero dell'anno 2016, disponibile in vari colori, da 9.850. Abbiamo un piccolo stock di 500 S, vettura un po' più sportivetta, dell'anno 2016, vettura a chilometri zero, pari colori, 10.700 euro la richiesta. 500 L, trekking, qui le disponibilità sono veramente ampie, passiamo dai motori 1.385 cavalli ai 1.605 e ai 120 cavalli, sono tutte vetture aziendali del gruppo Fiat, i chilometri sono pochi, gli accessori sono tanti, i prezzi a partire da 15.600. 500 trekking, 1.6, 120 cavalli a chilometri zero dell'aprile 2016, disponibile con verniciatura bicolor, navigatore, a partire da 19.500 euro. Vi ricordo che il prezzo di listino è di 26.870 di questa macchina, quindi un'ottima occasione. Zafira Tourer 2000 CDI 130 cavalli, allestimento Cosmo, con cambio automatico, 7 posti, porta USB per la musica, 20.400 la richiesta. Peugeot 2008 1.6 HD 92 cavalli, allestimento Active, vettura dell'aprile 2015, con pochissimi chilometri, clima, 6 airbag, radio touchscreen da 7 pollici, la richiesta a 14.800 euro. Peugeot 2008 1.6 100 cavalli, allestimento Allura, il top di gamma. Novembre 2015, relato in matricolazione, pochissimi chilometri, 1.500, con clima, fendinebbia, grip control, cerchi da 17, navigatore, veramente di tutto. 18.400 euro. 500 L, 1.3 multijet, 85 cavalli, vetture aziendali dell'anno 2015, vari colori, vari modelli e anche qui abbiamo disponibilità sia di motori 85, 95, quindi Euro 6, e allestimenti Lounge e anche Popstar. La richiesta a partire da 14.2. 500 L, 1.3 multijet, chilometri zero dell'anno 2016, con pacchetto Popstar, disponibile sia nel motore 85 cavalli che nel nuovo motore Euro 6 da 95. La richiesta a partire da 15.500. Fremont, 2.140 cavalli, allestimento Urban, vettura dell'anno 2013, 57.000 chilometri, molto molto bella, 16.300 euro. Fremont 2.000, allestimento Lounge, motorizzazione a 170 cavalli con 4 ruote motrici e cambio automatico. Vettura full optional, interno pelle, navigatore, cambio automatico, listino della vettura di 37.591 euro, noi la proponiamo a 30.100. C4 Picasso, 1.6, 115 cavalli, allestimento Seduction, vettura dell'anno 2014, meno di 40.000 chilometri, con sensori di parcheggio e navigatore, 15.500. Opel Mokka, disponibili sia con motore 1.6 da 136 cavalli che 1.7 da 130 cavalli in vari allestimenti, vetture dell'anno 2015, la richiesta è a partire da 19.300. 500X, vetture aziendali dell'anno 2015, meno di 20.000 chilometri, allestimento Cross, 4 ruote motrici, con navigatore da 5 pollici, la richiesta 21.600 euro. Disponiamo di uno stock di 500X, 4x4, cambio automatico 9 marce, 140 cavalli, turbodiesel, vetture full optional con pacchetto comfort, con navigatore, cambio automatico con le levette al volante, quindi veramente full, full optional. Vettura che proponiamo a partire da 25.250 euro. Renegade, allestimenti Longitude e Limited, con motorizzazioni 1.6 120 cavalli, vetture dell'anno 2015, a partire da 19.900. Panda 4x4, motore 900 Twin Air, allestimento Cross, quindi 4 ruote motrici, vetture a chilometri zero dell'anno 2016, con quinto posto e predisposizione per il navigatore, la richiesta è a partire da 15.300 euro. Sempre di Panda Cross disponiamo anche della versione 1.3 Multijet, 95 cavalli, quindi Euro 6, a partire da 15.700. Una fantastica Mini Cooper, 1.6 122 cavalli, vettura del marzo 2014, con 7.000 chilometri, veramente stupenda, 15.000 euro alla richiesta. Audi A1 1.4 turbo benzina, 122 cavalli, allestimento Attraction, vettura a gennaio 2011, 11.500 euro. Clio 1.5 DCI, 75 cavalli, vettura del gennaio 2015, 21.000 chilometri, con cerchi in lega da 16, navigatore e, attenzione, garanzia fino a gennaio 2020, quindi 5 anni di garanzia. La richiesta 12.900. Una fantastica Mito, 1.478 cavalli, quindi anche per neopatentati, allestimento Progression, vettura a chilometri zero del marzo 2016, con fendinebbio a ruota di scorta, 11.700 euro la nostra proposta. Casa Abarth, una piccolina, 5.95 cabrio, allestimento Turismo, con un motore da ben 160 cavalli. La vettura è un'aziendale, ottobre 2014 la data di immatricolazione, con un po' di tutto, insomma, una vettura molto particolare da venire a vedere. 19.200 euro alla richiesta. Fiat Cubo, disponiamo di un 1.4 benzina e metano, vettura del 2014 e anche di una versione 1.3 multijet, quindi varie disponibilità. Le richieste a partire da 11.400 euro. Opel Astra Sport Tourer, 1.6 CDTI da 110 cavalli Elective, marzo 2015 a partire da 14.8. Abbiamo anche qualche disponibilità nell'allestimento Cosmo. Peugeot 3008, 1.6 turbodiesel, 115 cavalli, allestimento Active, con Premium Pack. Vettura del dicembre 2013, ha percorso solamente 20.000 chilometri, full optional, con radio touch da 9,7 pollici, con hard disk, bluetooth e molti altri accessori, 13.800 euro. 308 station wagon, 1.6, 115 cavalli, allestimento Active, vettura gennaio 2015, 30.000 chilometri, disponibili in vari colori e motorizzazioni, a partire da 16.300. 308, berlina, 5 porte, 115 cavalli, allestimento Business, vettura del 2015, mediamente sono vetture del primo semestre dell'anno, con climatizzatore automatico, 6 airbag, radio touch da 9,7 pollici, con hard disk, bluetooth, cerchi in lega e navigatore. La richiesta 16.200. 308, 2.000 turbodiesel, 150 cavalli Business, con cambio automatico e navigatore, vettura bellissima, 18.700 euro. Passed variant, 1.605 cavalli Comfortline, aprile 2014, 25.000 chilometri, climatizzatore automatico, fendinebbia e navigatore, la richiesta di 19.800. Abbiamo uno stock di Golf, 1.6 turbodiesel, 105 cavalli Comfortline, vettura dell'aprile 2015, pochi chilometri, la richiesta è a partire da 17.300. Una stupenda Golf Cabrio, 1.605 cavalli nell'allestimento Highline, vettura dell'aprile 2012, 17.000 chilometri, pochissimi, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori e frangivento, 16.500 euro la richiesta. Golf Variant, 1.6 turbodiesel, 110 cavalli, allestimento Comfortline, giugno 2014, disponibile in vari colori, a partire da 15.400. Una bellissima Volvo V40, 115 cavalli Cross Country, vettura del giugno 2014, con 59.000 chilometri, navigatore, cambio automatico, sensori di parcheggio, 18.400. Giulietta, 1.6 turbodiesel, 105 cavalli, allestimento Distintim, vettura dell'anno 2015, pochi chilometri, disponibile in vari colori, a partire da 16.200. BMW 216 Tourer Active, advantage, vettura del febbraio 2015, pochi chilometri, cerchi da 17, fari e luci automatiche, sensori di parcheggio, cruise control, insomma, tutti gli accessori di una BMW. 22.400 euro la richiesta. BMW 318, allestimento Business, cambio automatico, febbraio 2015, 21.000 chilometri, 23.900 euro. Un altro bellissimo 318 Touring, cambio automatico, allestimento Business, con navigatore, fari e taggi cristalli automatici, sensori di parcheggio, cruise control, 27.000 euro la richiesta. BMW X1 S-Drive 18D, vettura del marzo 2015, disponibile in vari colori, la richiesta è a partire da 21.900. Un bellissimo Grand Cherokee, 3.000 turbo diesel, 250 cavalli, allestimento Overland, top di gamma, quindi interno in pelle, tetto apribile, cambio automatico, radio touch da 8,4 pollici, 36.000 chilometri, vettura è stupenda e con IVA esposta. La richiesta è di 42.000 euro. Come avete potuto vedere qui a Voghera, quello che non manca sono le macchine, ne abbiamo veramente tante per tutti i gusti, per cui venite numerosi, vi aspettiamo io e lo staff dei venditori, siamo a vostra completa disposizione per vedere anche nel dettaglio tutto quello che abbiamo presentato questa serata. Vi ricordo che De Giorgi, Danilo De Giorgi è concessionario dei marchi Fiat, Lancia, Abarth e anche del prestigioso marchio Jeep. Abbiamo inoltre un centro di assistenza, di revisione e quindi niente, vi aspetto numerosi, non mancate. Una buona serata a tutti, arrivederci.